Le do tre schede, una matita, una scuola, una scuola, una scuola. In Italia siamo arrivati al 53,85% in Toscana, al 65,88% in provincia di Arezzo al 66,13%. Questi i numeri dell'affluenza al voto alle 15 del lunedì 21 settembre in questi due lunghi giorni di election day in cui gli italiani, i toscani e gli aretini erano chiamati alle urne. Gli italiani, come sappiamo, per esprimersi sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, i toscani per l'elezione del nuovo presidente della regione ed il consiglio regionale e gli aretini, i soli residenti nel comune di Arezzo, per eleggere il sindaco e la composizione del consiglio comunale. La scheda arancione la metti qua, la scheda arancione la metti qua. Con mascherine, distanziamento e gel igienizzante, dunque alle 15 del 21 settembre aveva votato il 66,13% degli aventi diritto in provincia di Arezzo, il 66,9% nel comune capoluogo. Qui la mascherina, 200, 27, si può andare a significare di fare l'altra volta lì. Il numero più alto dei votanti si è registrato ad Ortignano-Raggiolo con il 70,30% e Castiglion-Fibocchi, 70,25%, il più basso a Caprese-Michelangelo, 55,70%. Un'affluenza che è andata a rilento durante le due giornate che poi ha avuto un'impennata in quella di lunedì. Cinque anni fa, nel 2015, quando sia alle regionali che alle comunali si votò in un unico giorno, la percentuale definitiva fu del 57,43% nel comune capoluogo. I candidati alla corsa per la carica di sindaco di Arezzo hanno deciso di recarsi alle urne tutti nel primo dei due giorni e quindi domenica 20 settembre, li vediamo nelle nostre immagini. Lo spoglio per le elezioni amministrative inizierà nella giornata di martedì 22 settembre, a cominciare dalle 9. La nostra emittente sarà in diretta TV e social a partire dalla stessa ora. Per il momento l'unico risultato elettorale che si conosce è quello sul referendum costituzionale. Prevale il sì a livello nazionale con il 69,55% dei voti contro il no, 30,45%. I sì in provincia di Arezzo sono il 68,77%, i no il 31,23%, leggermente più bassa. La percentuale invece nel comune capoluogo, sì 65%, no 34%.